4 gennaio 11 gennaio 15 gennaio 16 gennaio 24 gennaio 26 gennaio 29 gennaio 1 febbraio 4 febbraio 7 febbraio 7 febbraio 7 febbraio 17 febbraio 18 febbraio 19 febbraio 22 febbraio 7 marzo 22 febbraio dobora 13 marzo ornella 15 marzo lorenza addolorata 15 marzo carolina 22 marzo alberta paola 23 marzo giuseppina 8 aprile lucia 11 aprile rosaria 11 aprile liliana 12 aprile manuela 14 aprile barbara 14 aprile laura 15 aprile anna 18 aprile elena 19 aprile tina 21 aprile anna maria 26 aprile vincenza 30 aprile saman 2 maggio emma 5 maggio antonietta 5 maggio ilenia 7 maggio angela 8 maggio laura 12 maggio blessing 25 maggio lorella 27 maggio filomena 28 maggio maria carmina 29 maggio teresa 29 maggio alessandra 2 giugno bruna 19 giugno silvia 28 giugno chiara 3 luglio ginetta 8 luglio lucia 9 luglio francesca 13 luglio angelica 16 luglio vincenza 21 luglio maria 21 luglio maria 22 luglio maria 22 luglio daniela 23 luglio maria 30 luglio monica monica meia 10 agosto marylin 12 agosto silvia 12 agosto scegusce 15 agosto 15 agosto manuela 16 agosto pierina 21 agosto maria rosa 22 agosto catherine 22 agosto stefania chiaris 23 agosto vanessa 5 settembre 5 settembre chiara 8 settembre ada 9 settembre angelica 9 settembre eleonora 10 settembre rita 13 settembre giuseppina 13 settembre sonia 15 settembre sonia 17 settembre doriana 26 settembre anna 28 settembre graziella 2 ottobre lucia 5 ottobre carmen 12 ottobre giuseppina 15 ottobre christine 15 ottobre lucrezia 21 ottobre elena 31 ottobre marita 4 novembre elena 16 novembre vittoria 16 novembre milena 17 novembre elisa 17 novembre simonetta 18 novembre anna 20 novembre juana cecilia se hai paura non è amore se hai paura non è amore 15 novembre 15 novembre Grazie a tutti.